Ciao, mi è appena arrivato l'ordine Avon e adesso vi mostro i prodotti. Allora, intanto, vado a tutti i cataloghi, idee regalo per Natale, cataloghi di campagna, della successiva, mi manca... Ah no, eccolo qui, vi do un'anticipazione, il catalogo di campagna... perché 17 questo? 15 e la 16? Vabbè, campagna 17, tutto il catalogo in saldo, e qui non vedo dove di vederlo, ci sono tutto in saldo. Wow, ok, poi sempre campagna 15 e 16? Ah, ok, un'offertissima, molto bene. Poi l'Avon Beauty Shop, anche per il periodo Natalizio, poi tutti gli avvisi, vinci vinci, e poi nulla, i miei cataloghi, le offerte dedicate a me, le anteprime. Ok, passiamo ai prodotti. Allora, vediamo, inscrivisco qua... Allora, il primo che vi faccio vedere è questo sette, questo sette, uno, due, tre, si, eccoli qua. Allora, sono questi tre prodottini, che sono appunto, sono appunto il stoccante 3 in 1, questo è buonissimo, con aloe e ginger. Questo è buonissimo, lo uso anch'io, poi il set comprendeva una crema, aloe, sì, crema da 75 ml, comunque, è tutto comunque, sì, dello stesso set. E poi, accidenti, e poi la saponetta, la saponetta, sempre della stessa linea, sto leggendo, sì, Davon Care, tutto un set detergente, ok? Che non stava mai in piedi. Dopodiché, allora, siccome c'erano un paio di offerte, nel senso, compri un paio di due prodotti, anziché a prezzo pieno. Allora, ho comprato questa crema all'olio di ergan, per le mani, a 24 ore, con olio di ergan, glicerine e vitamina E. E questa, adesso la sniffo. No, non ha tantissimo profumo. Poi, sempre appunto, stessa cosa, due prodotti a prezzo pieno. Questo, ehm, pediluvio, allora, questo è, ehm, melograno e cioccolato. Ed è una cosa, l'ho sniffato prima, pediluvio e belassante. E anche di questi, visto che, ne ho presi due. Poi, sempre della stessa linea, e sempre alla stessa perfumazione, crema idratante per i piedi, sempre melograno e cioccolato, della linea Avon Footworks. No, della linea Avon Footworks. E poi, ehm, questa crema che, se riesco a farvi vedere un attimo, allora, il, ehm, rotto, tra virgolette, di Avon, è questo. Cioè, che non mette la, la pellicoletta sopra. E, ora, adesso qui, vabbè, ehm, dentro nello scatolone, il viaggio è tutto, ok? Però, ehm, voi vedete che, si conciano poi, così. Se invece mettessero una bella pellicolina, ah, comunque ha un profumo che non ve lo sto nemmeno a dire. Ed è questa. Poi, un'altra cremina che io solo per la confezione sto impazzendo, è questa. Love. Questo non c'entra nulla. è questa. Crema profumata per il corpo. E anche questa ha una profumazione, beh, una cosa esageratissima. Buonissima. Poi, ah, qua devo mettervi di nuovo, raccialettino Avon. Voi sapete che Avon collabora con il titolo, ehm, col professor Veone, insomma. Adesso io l'ho già aperto perché ovviamente figurarsi se non sono curiosa. Ed è questo. Luce zero, però, comunque. Il fiocchetto, il nastrino della solidarietà e poi il braccialetto. Ok. era finita. Avevo ordinato una bellissima collana a girocollo, con le pietre e il bici, ma era finita, non c'era più. E poi. E nulla. Io con tutti questi profumi, profumini della quale sono circondata, vi saluto. Ciao.